E' stata una gran partita disputata da due grandi squadre. Nel primo tempo il City ha giocato meglio di noi, ma nella ripresa, soprattutto dopo aver inserito Torres, abbiamo accorciato le distanze e siamo stati superiori. Secondo me meritavamo di più, inoltre credo che il momento chiave della gara sia stata la mancata assegnazione del rigore su Torres, il che avrebbe fatto una gran differenza. Ma bisogna anche dare merito al City perché è un'ottima squadra, anche se comunque quel rigore avrebbe potuto cambiare tutto. Siamo un po' tristi, credo che la squadra abbia mostrato del carattere per tutta la gara e ci abbia provato fino alla fine. Abbiamo creato diverse occasioni per fare il secondo gol, ma siamo stati sfortunati, d'altronde questo è il calcio. Mi hanno detto che il fallo di Aguero era evidente, ma non l'ho visto bene, per cui non posso esprimermi. Mi hanno detto che era un brutto intervento, ma non mi piace parlare delle cose negative. E' lui che deve essere sincero con se stesso. Aguero è un gran giocatore, fa tanti gol e rende felici tante persone nel mondo. Non credo che quello sia il suo stile di gioco, ma a volte durante le partite ci può stare che i giocatori si infervoro in un po', per cinque secondi, per cui cose del genere possono accadere. Ma comunque perdono Aguero, non mi importa delle cose negative perché amo giocare a calcio e basta. Non mi importa delle cose negative perché amo giocare a calcio e basta. Non mi importa delle cose negative perché amo giocare a calcio e basta.